La luce blu è una forma di radiazione elettromagnetica compresa tra 380 e 500 nanometri. La luce blu viola emissa dagli schermi LCD, LED, DTV, smartphone, tablet e pc è particolarmente dannosa per la salute dei nostri occhi. I danni da esposizione a luce blu viola sono diversi e immediati. Infatti già dopo 6-8 ore si riscontrano. In sogna, l'esposizione alla luce blu viola causa una drastica riduzione nella produzione di melatonina. Occhi arrossati e irritati, secchezza oculare, guardare a lungo uno schermo infatti causa una riduzione dei tempi di ammiccamento. astinopia dovuta non solo all'esposizione alla luce blu ma anche allo sforzo di leggere caratteri estremamente piccoli. Ma l'essere generale dovuto a faticamento oculare, come possiamo proteggere la salute dei nostri occhi? Ovviamente riducendo l'esposizione alla luce blu viola e quindi limitando l'uso, soprattutto nelle ore serali e notturne, di tablet, pc, smartphone e tv. mantenere una distanza di 60 cm dagli schermi e lasciare riposare gli occhi per 5 minuti almeno ogni ora. Regolare la luminosità degli schermi e pulirli spesso. Usare occhiali e schermi filtranti, usare corce oculari lubrificanti e lenitive per ridurre l'irritazione e mantenere l'occhio idratato. Non tutta la luce blu è minociva, infatti la fascia blu turchese ha effetti positivi sulla produzione di melatonina, sostenendo i ritmi giorno-notte.